la registrazione. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo quarto webinar del ciclo sulle competenze digitali. Come avete visto oggi parliamo ancora di comunicazione, quindi siamo sempre nell'area della comunicazione, però oggi parliamo della comunicazione esterna. Comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni. Come sapete quindi questo è il quarto appuntamento di un ciclo di 11 seminari che ci terranno compagnia sino al 28 luglio. Li abbiamo chiamati il martedì con le competenze digitali. Come sapete l'obiettivo del ciclo di seminari è affrontare il tema dello sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, vedere quali sono e perché sono necessarie e raccontare anche però qual è il percorso che il Dipartimento della Funzione Pubblica vi propone. Propone alle pubbliche amministrazioni per acquisire le competenze digitali e descrivere quali sono gli strumenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formes che collabora a questo progetto propongono alle pubbliche amministrazioni italiane per lo sviluppo delle competenze digitali dei propri dipendenti. Come avete visto ogni seminario del ciclo è dedicato a una competenza, le competenze individuate nel syllabus sono 11, per questo 11 sono in tutto gli appuntamenti. Chiaramente nel seminario non si possono trattare tutti i temi, tutti i contenuti della competenza in oggetto ma la logica è quella di fornire alcuni spunti in modo tale che poi si possa un po' anche approfondire. Diciamo che cercheremo nei nostri seminari, noi cerchiamo sempre di fare una sorta di volo e di vedere dall'alto quali sono i temi principali della competenza, però proprio anche di far capire perché questi temi sono importanti oggi per la pubblica amministrazione. Per tutto il resto ci sarà poi la formazione che arriverà, come abbiamo detto anche le altre volte, a partire dal mese di settembre. Quindi queste sono delle pillole, come avete visto, voi potete ascoltare e seguire i webinar anche quando è disponibile la registrazione, i nostri relatori nelle loro slide prevedono sempre anche una parte dedicata proprio agli approfondimenti, una sorta di per saperne di più. In questo modo c'è proprio una parte sulla normativa, sitografia, bibliografia, articoli utili per approfondire i temi. Sono una sorta di piccole pillole che anticipano i contenuti, per tutto il resto arriverà la formazione. Quindi iniziamo con il seminario di oggi, la volta scorsa abbiamo parlato di comunicazione interna alla pubblica amministrazione, oggi parliamo di comunicazione con l'esterno perché il dipendente pubblico è inserito nel sistema di comunicazione della propria amministrazione con i cittadini, con le imprese e con le altre pubbliche amministrazioni. Quindi chiaramente il dipendente pubblico deve sapere individuare gli strumenti di comunicazione, in questo caso digitale, più appropriati per interagire, sapere anche come attivare forme di partecipazione per un maggior coinvolgimento dei cittadini e inoltre deve sapere qual è il ruolo della PEC nella comunicazione con l'esterno, sapere cos'è il domicilio digitale e cosa comporta. Quindi veniamo al programma di oggi. L'intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica oggi è svolto da Sabina Bellotti che parlerà del dialogo aperto con le amministrazioni a proposito del sillabus e vedremo proprio come attraverso questo dialogo, attraverso la fase di sperimentazione, attraverso i feedback che le amministrazioni stanno fornendo, il Dipartimento della Funzione Pubblica in qualche modo sta anche modificando, continua a modificare in corso le attività previste. Avremo poi i relatori di oggi che sono Gigi Kogo e Andrea Chiodi, sono entrambi funzionari pubblici, esperti rispettivamente di innovazione digitale e di diritto amministrativo e con loro vedremo i contenuti dell'attività di comunicazione di cui si parla oggi. Alla fine dell'intervento dei due relatori avremo anche una brevissima sessione di domande e risposte, quindi voi potete porre le vostre domande in chat e alla fine saremo noi a farle vedere ai relatori per chiedere di rispondere. Come sempre vi dico che il seminario è registrato, la registrazione sarà disponibile a partire da questo pomeriggio su Eventi PA, mentre l'attestazione delle presenze sarà fatta entro le 48 ore. A questo punto lascio la parola a Sabina Bellotti che vedo già in video. Prego Sabina, buon seminario a tutti. Buongiorno a tutti, molto brevemente vi presenterò alcune delle attività che nel back office stiamo realizzando per voi. Io faccio parte del team del progetto competente digitali per le PA e chiedo di attivare le mie slide fortesemente, che non vedo. Comunque nel frattempo eccole, come vi dicevo faccio parte del team competente digitali per le PA e mi occupo in particolare di un tema molto importante per noi, che è quello dell'ingaggio delle amministrazioni. Un'iniziativa di questa portata di livello nazionale e di questa rilevanza dal punto di vista del tema che copre quello delle competenze digitali, purtroppo non ancora sufficientemente diffuse nel settore pubblico, necessita chiaramente di una forte azione di dialogo del Dipartimento della Funzione pubblica con le amministrazioni. Complessivamente tratterò alcuni punti brevemente, quindi partiamo da quella che è un'idea e qual è il metodo che stiamo utilizzando. Ricorderò per coloro che non seguono l'iniziativa dall'inizio che cosa abbiamo fatto finora brevemente, quindi relativamente al syllabus delle competenze digitali, alla piattaforma per l'assessment che è stata creata e qual è la riflessione che in questo momento è in corso e chi coinvolge. L'idea è chiaro che soprattutto chi di voi ha potuto navigare nel sito del progetto sa che lo slogan che abbiamo creato, che abbiamo coniato è più conoscenza, più formazione, più competenza. Competenza è l'obiettivo, competenze per l'innovazione, essenzialmente competenze di tipo digitale, sono quelle a cui puntiamo come obiettivo generale del progetto. questo legale fra conoscenza, formazione e competenza è ovviamente nostro, però per molte ragioni, soprattutto per quanto riguarda l'ambito delle competenze digitali, sembra non aver funzionato finora l'azione e lo sforzo che molte amministrazioni pubbliche hanno messo in campo per dotare il proprio personale, per dotarsi all'interno di quelle competenze digitali che sono necessarie per la trasformazione digitale nel modo di funzionare del settore pubblico. Quindi l'idea qual è stata? Quella di mettere in campo un elemento di rafforzamento, di collegamento forte fra la conoscenza e la formazione per la creazione delle competenze. Quindi non è un elemento nuovo, molte amministrazioni fra le più avanzate sicuramente hanno lavorato in termini di misurazione, assessment delle competenze, però non è mai stata fatta un'operazione di questo tipo che ovviamente chiama in campo una serie di strumenti e di modalità che devono essere realizzate. Voi già sapete che queste sono le componenti importanti di questa iniziativa. Un sillago sulle competenze digitali che rappresenta e descrive il certo minimo di conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico dovrebbe possedere o comunque dovrebbe essere presente all'interno delle organizzazioni pubbliche per poter partecipare attivamente alla trasformazione digitale del settore pubblico. Una piattaforma per l'assessment e a valle ovviamente poi lo strumento fondamentale che ci riconnette con le competenze, quindi un catalogo della formazione che serva a colmare i gap rilevati. Che cosa dal punto, un passaggio fondamentale, una collega che mi ha preceduto, la dottoressa Romeo, ha rappresentato molto bene quella che è, come dire, una delle criticità che sempre come funzione pubblica quando vogliamo agire a livello nazionale a supportare in maniera complessiva il settore con la quale ci troviamo a confrontarci, che è la complessità del settore pubblico in termini di numero e in termini anche di differenze qualitative e di culture presenti. Quindi questa slide rappresenta un po' come dire la difficoltà che questa iniziativa di fronte. Il metodo, abbiamo detto quella è l'idea, il metodo è il metodo appunto quello di realizzare questa iniziativa step, my step, fase per fase, vedete qui rappresentate le fasi in corso e il punto in cui siamo allora oggi arrivati, anche se forse siamo un pezzo un po' più avanti perché stiamo già lavorando anche alla creazione del catalogo e quindi vedete che la parola chiave è dialogo come metodo, un dialogo per costruire un sillabo spartecipato, un dialogo aperto per sperimentare coinvolgendo operativamente alcune amministrazioni, un certo numero di amministrazioni a collaborare con noi, una riflessione per estrarre delle lezioni amprese, lezioni amprese che servono poi a generalizzare, a rendere come dire ampia l'iniziativa e il suo potenziale impatto. Quindi partiamo dal discorso del sillabus. Il sillabus appunto lo sapete, l'ho detto, è il documento che descrive il certo minimo di conoscenza. Cosa abbiamo fatto? Dopo averlo creato in collaborazione ovviamente con persone esperte di questo tipo di documenti che presentano una complessità sicuramente anche dal punto di vista tecnico, abbiamo deciso di metterlo in consultazione, di rivolgerci come destinatari ai responsabili della trasformazione digitale, ai responsabili della formazione in prima battuta, ma anche a tutto il personale interessato comunque a misurarsi con le proprie competenze digitali, voglio dire la percezione dell'importanza di questo tipo di competenze nel profilo professionale di ognuno è un dato, come dire, epocale. Quindi anche nel settore pubblico come nel settore privato sono competenze richieste e competenze che poi servono in realtà anche nella vita quotidiana. E naturalmente anche l'interessato del tema. Il metodo che è stato seguito è stato quello di una consultazione aperta, un forum online, accompagnato ovviamente dalla promozione perché la stessa parola sillabus delle competenze digitali hanno in qualche modo chiarità, quindi con notizie, articoli, webinar e con un primo impatto in termini di interesse suscitato che vedete rappresentato dei numeri che vedete nella slide. Che cosa ne è derivato in termini di esiti della consultazione che è avvenuta, lo ricordo, un anno e mezzo fa perché appunto il percorso dalla definizione del sillabus alla definizione della piattaforma c'è voluto del tempo. E comunque il primo passaggio che abbiamo portato a casa in qualche modo attraverso un dialogo con rappresentanti delle amministrazioni è stato proprio quello di mettere a punto in maniera definitiva il sillabus. Vedete qui la partecipazione attiva rappresentata da questi numeri, ovvio che stiamo parlando, come dire, di un contesto abbastanza specialistico, ma sicuramente abbiamo suscitato, ed era questo l'intento, un confronto sui concetti di competenza e i livelli di padronanza che sono presenti nel sillabus delle competenze digitali e anche sulla scelta degli argomenti perché appunto si trattava in qualche modo di definire un perimetro condiviso di quelle che sono le competenze digitali attese nel settore pubblico in generale. Tra le aree di maggiore interesse, lo ricordo perché proprio oggi parliamo qui di comunicazione e condivisione, sono risultate queste due fra le cinque presenti nel sillabus e non mi soffermo oltre. E passiamo al secondo argomento, diciamo, cosa abbiamo messo in campo invece, una volta che siamo partiti dal sillabus, per produrre gli strumenti necessari per dare concretezza alla parola assessment delle competenze digitali. Gli attori in questo caso, da un lato il DFP che appunto ha assunto la condizione di accompagnare il percorso di amministrazione pilota che avevano scelto di condividere questo percorso con noi per testare gli strumenti per l'assessment messi appunto all'inizio di questa seconda fase e che dovevano ovviamente coinvolgere il proprio personale per assicurare una partecipazione sufficiente a poter sperimentare questa strumentazione. Queste sono le icone dell'archive alle amministrazioni cosiddette pilota che come vedete sono enti nazionali, una certa rilevanza dal punto di vista dell'impatto anche sulla attività e sulla vita dei cittadini. Union Camera è una sorta ovviamente di porta d'ingresso per tutta la rete camerale, sono circa 180 le camere di commercio che poi di fatto sono state coinvolte nell'assessment. Formex Piazza ovviamente è un'agenzia tecnica in house dell'impartimento della funzione pubblica che ha ritenuto di volere come dire sperimentare in prima battuta su di sé questa strumentazione. Oltre a questo e vediamo all'utilizzo della piattaforma quindi a che cosa ha prodotto questa sperimentazione ad oggi, voglio ricordare anche un contributo che deriva da TIM, vedete qui il logo di operazione di sorgimento digitale perché questa operazione che ha come finalità, che aveva come finalità e ha una finalità quella di contribuire a far crescere la cultura del digitale nel nostro paese non soltanto sul versante pubblico ma soprattutto anche sul versante cittadino della cittadinanza quindi ovviamente una partnership strategica per il dipartimento della funzione pubblica. È stato siglato infatti un accordo a febbraio scorso tra la ministra Dodone e il vertice di TIM, purtroppo la pandemia ha bloccato un po' questa attività ma nella prima fase l'operazione di sorgimento digitale è servita a portare a conoscenza delle amministrazioni locali, in particolare del sud, in questo caso la conoscenza del syllabus e dell'iniziativa e della possibilità di registrarsi per utilizzare la piattaforma. Complessivamente vedete i dati relativi alla sperimentazione, oltre 400 dipendenti registrati, oltre 350 test completati, i feedback raccolti con una numerosità sufficiente per poter trarre alcune conclusioni importanti per noi, quali i risultati della customer che ovviamente è stata rivolta con l'indagine specifica al personale che aveva partecipato all'assessment, alcuni suggerimenti relativamente alla tempistica, ovviamente una piattaforma online per l'assessment risponde a determinati criteri tecnici rispetto alle modalità di esecuzione del test e rispetto ai contenuti del test, quindi vedete tempo a disposizione, comprensibilità dei testi, contenuto delle domande, feedback che riceve individualmente e che ricevono poi anche le amministrazioni e ha messo in evidenza da subito alcuni punti di forza, fruibilità della piattaforma è stata percepita come chiara, utile e fruibile, l'importanza percezione individuale questa di poter autoverificare le proprie competenze in maniera individuale e senza che questo comporti nessun tipo di conseguenza sulla propria collocazione professionale nell'immediato e vi spiegherò come dire rafforzamento della motivazione alla formazione, infatti vedete prima di vedere l'edito, quindi come questa sperimentazione abbia avuto un impatto sulla strumentazione, voglio sottolineare un paio di aspetti da considerare, da un lato appunto sono interessato a seguire un percorso formativo coerente con i risultati del mio test, sì per il 90% degli intervistati, quindi questo sembra essere un passaggio che non solo rafforza la capacità che le amministrazioni avranno o dovrebbero avere di, come dire, avviare a una formazione specifica che colmi i gap individuati e il proprio personale, quindi rinforzare gli effetti della leva formativa, ma anche un elemento di motivazione in più per il personale individualmente preso, considerato che può percepire l'accesso a una formazione mirata come un vantaggio anche sul piano dell'acquisizione individuale, personale, del set di conoscenze e di competenze che si desidera possedere. Un altro elemento da considerare meno positivo è quello della curva presente, ma ovviamente non è una novità rispetto a quali sono le dotazioni tecnologiche del posto di lavoro, quindi a come poi le competenze, le conoscenze e le abilità possedute possano essere di fatto agite, perché questo ovviamente è una condizione sine qua non e sappiamo che c'è una distribuzione che varia molto all'interno del settore pubblico da questo punto di vista ancora oggi, nonostante il salto in avanti che è stato fatto anche in settori importanti come per esempio quello educativo. L'edito della sperimentazione lo vedete rappresentato qui, dal punto di vista del test di assessment si è potuto intervenire, si è voluto intervenire sulla variazione della soglia di superamento dei livelli di padronanza e sulla revisione dal punto di vista qualitativo di alcune domande relativamente alla loro struttura e contenuto. In più è stato fatto un lavoro di messa a disposizione di una reportistica che avvantaggia la possibilità di utilizzo della piattaforma dal punto di vista dell'amministrazione che invia il proprio personale a rifettuare l'assessment, quindi con una reportistica sulla partecipazione e sull'edito. E qui voglio ricordare appunto questo elemento in conformità al GDPR, cioè l'amministrazione non riceve un'informazione sull'esito individuale del test, ma oltre a una numerosità di minimo 5 dipendenti riceve dei report che danno in maniera aggregata l'esito in termini delle competenze presenti. Comunque potranno a breve con le ultime innovazioni insomma introdotte nella piattaforma gestire e abilitare la partecipazione alla gestione dei propri dipendenti in piattaforma in maniera diretta. Veniamo all'ultimo punto brevemente, parliamo della riflessione sulle lezioni apprese. Allora, le PAPilota hanno rappresentato con la loro esperienza un primo, come dire, una prima esperienza in qualche modo compiuta, anche se non ha seguito ancora direttamente la fase formativa, forse non in tutti i casi, e sono sicuramente un soggetto per noi molto importante, privilegiato, con il quale dialogano è per capire che lezioni loro hanno appreso da questa esperienza. Ma nello stesso tempo è stato aperto anche un nuovo fronte recentemente che riguarda altre tipologie di amministrazioni diverse da quelle presenti nel pilota, come regioni, comuni metropolitani, ministeri, anche insomma amministrazioni che come le pilota si sono dimostrate proattivamente interessate all'utilizzo del strumento della piattaforma di assessment messa a disposizione dal Dipartimento, quindi Regione Veneto, Regione Lazio, Comune di Firenze, Comune di Roma, e nonché anche ministeri come la giustizia e trasporti e infrastrutture, con le quali è stato aperto un dialogo rispetto a quella che è la loro percezione di questo strumento e quali sono i ragionamenti che stanno mettendo in campo per arrivare a una fase vera e propria di utilizzo. Quindi l'edito di questa riflessione sarà per noi molto importante la produzione di linee guida che possano servire a supporto di tutte le pubbliche amministrazioni che in futuro, una volta che saremo usciti completamente dalla fase sperimentale, dalla fase pilota, potranno avvalersi di questa strumentazione. Queste linee guida saranno messe a disposizione ovviamente dei responsabili del personale della formazione e dei responsabili della trasformazione digitale, che sono come dire i stakeholder principali di questa nostra proposta, e avranno contenuti relativi a come sia opportuno, abbiamo visto dall'esperienza realizzata finora, familiarizzare con il syllabus e il sistema, cioè preparare l'organizzazione all'assessment, e come sia fondamentale un passaggio di definizione di una propria strategia in linea con il proprio contesto interno, perché il syllabus è un linguaggio, come dire il filo rosso delle competenze digitali, ma va calato nel contesto dell'amministrazione, considerando tutte le connessioni importanti da considerare con la pianificazione formativa, con i piani di formazione triennale già presenti nell'organizzazione, con quello che è stato erogato in termini di formazione digitale al personale in precedenza, e soprattutto una strategia sufficientemente supportata da un commitment significativo da parte del vertice dell'organizzazione stessa e in particolare in modo diffuso da parte della dirigenza. E quindi è molto importante in questo passaggio del arrivare in questo modo alla formazione sia percepito come, come dire, rafforzato rispetto alla possibilità che l'organizzazione deve avere, una volta acquisite queste conoscenze e queste abilità, di funzionare il più possibile rapidamente e in modo diverso, quindi di dare attuazione alla trasformazione digitale. altrettanto è importante comunicare la strategia a tutto il personale presente perché sicuramente non saranno tutti ad essere avviati all'assessment e ci saranno delle priorità, ci saranno delle fasi, ma è importante che sia chiaro qual è al personale, qual è l'obiettivo e qual è la filosofia che sta dietro questo approccio diverso rispetto al passato. Cosiccome sarà molto importante, qui richiamo in campo le due figure del responsabile personale dell'RTD, sapere valutare i gap individuati e progettare o scegliere la formazione da erogare a valle. Quindi questo è il punto di arrivo. Io mi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per aver preso qualche minuto in più. Siamo e continueremo a lavorare per voi. Buon lavoro. Perfetto, grazie dottoressa Bellotti. Approfitto per dire che le domande che voi farete adesso nella chat sul syllabus, su come si aderisce, insomma sul funzionamento del sistema, noi le usiamo per integrare le FAQ che sono disponibili sul sito competenzedigitali.gov.it. Adesso lascio la parola a Gigi Kogo, con il quale vedremo proprio canali, strumenti e linguaggi di comunicazione con l'esterno. Prego Gigi. Grazie Roberta, buongiorno a tutti. Cercherò di rimanere nei limiti anche se ovviamente il tema della comunicazione nella pubblica amministrazione è un tema molto ma molto vasto e mi permetto di dire uno dei temi sui quali veniamo spesso misurati per la nostra capacità relazionale, per la nostra capacità empatica e spesso anche per il linguaggio che tentano giustamente a comprendere quelli che sono gli utenti ai quali noi ci riferiamo. In particolare il mio escursus si baserà soltanto sulla prima parte, quella più relativa alla comunicazione informale, mentre poi il collega Chiodi si concentrerà più sulla parte formale, quindi su quella che anche sotto certi aspetti sia tecnici che regolatori è già molto ben regolata. Quali sono fondamentalmente gli obiettivi di questa settimana? Noi viviamo in un mondo che comunica tantissimo, comunica attraverso tantissimi strumenti che utilizzano sia i cittadini che le imprese e anche la pubblica amministrazione utilizza anche se spesso in maniera errata. Tutti i tre livelli che derivano dall'assessment del syllabus, quindi i tre livelli di padronanza, hanno comunque a che fare con la comunicazione. Non esiste oggi un dipendente che non comunichi, anche il dipendente che non ha relazioni alti o che comunque non ha attività di front office, ad esempio, si trova a comunicare esternamente anche semplicemente con l'email o anche semplicemente utilizzando alcuni canali che spesso sono quei canali anche non governati o non governabili dalla pubblica amministrazione. Su questo ovviamente dobbiamo tutti considerare il fatto che quando comunichiamo esternamente lo facciamo per rendere semplice il messaggio e lo facciamo anche per portare un po' di reputazione all'esterno. Voi sapete tutti che non godiamo di una grandissima reputazione e questo ce lo portiamo dietro come un pardello da decenni. Non è che le cose stiano cambiando attraverso gli strumenti o attraverso le metodologie. Purtroppo questa reputazione può passare, può essere migliorata, può diventare più efficiente anche usando al meglio i linguaggi. Quindi mi concentrerò un pochino su questi elementi che sono degli elementi con i quali tutti dovremmo fare i conti. Quindi perché è importante saper comunicare all'esterno? Perché è importante anche saper ascoltare quello che ci viene proposto o quello che comunque spesso viene distanziato e anche criticato dagli utenti per renderlo poi attraverso l'ascolto un miglioramento continuo dell'attività di servizio che tutti eroghiamo. E poi perché è importante anche far partecipare, come abbiamo visto anche questo, del syllabus è un percorso partecipativo. È un percorso che coinvolge tutta una serie di soggetti che non sono soltanto i destinatari ma anche i portatori di interesse o comunque anche tutti quei soggetti che rispetto a un processo decisionale della pubblica amministrazione possono portare dei miglioramenti o possono darci alcuni consigli che possiamo, non dobbiamo, ma possiamo ritenere tutti. Quindi il mio intervento si distingue ovviamente da quello più formale che come tutti sapete è basato anche su uno strumento barra servizio che abbiamo imparato a conoscere che è quello della posta elettronica certificata, ovviamente quello che è un argomento che tratterà il collega successivamente è un canale sia istituzionale che formale, ma non è detto, anzi non dobbiamo cadere nell'inganno che se utilizziamo la posta elettronica normale, quella tradizionale che siamo attituati a utilizzare anche nelle nostre attività personali, anche ciò visto il nostro ruolo non debba essere comunque ascritto a un comportamento, a un'etica e soprattutto a un linguaggio consono, perché comunque anche quando scriviamo un'email a un'altra amministrazione o a un'impresa, a un portatore di interesse che ci chiede magari a che punto è una pratica o ci chiede a che punto è un finanziamento o come poter accedere a un contributo piuttosto che a un servizio esportello che non ha capito eccetera eccetera, noi rappresentiamo sempre l'ente e quindi in quel momento siamo l'interfaccia con i cittadini, qualsiasi cosa diciamo anche su un canale che non è sicuro e non è come la posta elettronica certificata, un canale che ci dà la certezza e il valore legale di tutto quello che avviene all'interno di quella trasmissione, assolutamente dobbiamo pensare che anche nella posta elettronica leggera o comunque quella non formale, dobbiamo farci soprattutto capire, non dobbiamo assolutamente dar per scontato che il linguaggio burocratese che spesso utilizziamo nel comunicare fra di noi e all'interno dei nostri enti sia perfettamente percepibile anche all'esterno, anzi la maggior parte delle volte assolutamente non lo è, ecco per cui la grande differenza è sicuramente la differenza dettata dal valore legale, dalla certezza della venuta in Dio eccetera eccetera, ma guardate che anche, e vi dico purtroppo a chi è capitato, anche in alcune cause centrate contro la pubblica amministrazione, molti giudici fanno riferimento anche ad informazioni che possono essere state date in maniera errata attraverso la posta elettronica tradizionale, non possiamo assolutamente sfruttare un vantaggio del tipo, ma non è quella ufficiale, quindi quello che ho detto non ne riconosco la paternità assolutamente, noi siamo sempre e comunque nel nostro ruolo, nel nostro ambito e spesso e volentieri anche nell'orario d'ufficio quando comunichiamo con la posta elettronica tradizionale. Poi ovviamente negli anni abbiamo imparato ad utilizzare moltissimi altri strumenti che derivano fondamentalmente da un uso privato di questi canali, di questi strumenti, spesso si usa dire, sociologi lo chiamano effetto consumerization, cioè quello che abbiamo imparato a fare come consumatori, perché di fatto non siamo utenti di Facebook, di Instagram piuttosto che di Amazon, siamo consumatori, perché di fatto lì il nostro ruolo cambia, partecipiamo a delle piattaforme e a delle modalità che sono fatte fondamentalmente per il profitto. Ecco, questi qui sono tutti strumenti e ce ne saranno tantissimi altri nei prossimi anni, negli anni a venire, perché l'evoluzione delle tecnologie e del web li mette sempre in continua evoluzione, ce ne saranno tanti con i quali ci dovremmo assolutamente confrontare. E' questo l'ambito sicuramente che noi chiamiamo informale, ed è a volte anche indiretto, perché spesso e volentieri quando ad esempio utilizziamo i social network per la pubblica amministrazione, spesso non si sa chi c'è dietro ad esempio a quel profilo che magari parla su Twitter piuttosto che su Facebook. Impariamo ad utilizzarli, sappiamo che non hanno mai una funzione e una modalità consolidata, si usa dire che sono in beta perpetua perché sono in cambiamento continuo e loro cambiano e cambiano molto più velocemente di quanto cambiamo noi. Quindi di fatto è una rincorsa quella che la pubblica amministrazione fa rispetto a tutti questi linguaggi. E gli utenti che sono fuori, specialmente i più giovani, millennials che arrivano verso di noi, verso la pubblica amministrazione, utilizzano già dei linguaggi ma anche dei ritmi che sono diversi da quelli a cui noi siamo abituati. Quindi loro di fatto non sono statici, siamo noi che spesso siamo immobili e diciamo abbiamo bisogno di più tempo per riuscire a confrontarci con questi uomini. Di solito, perlomeno negli ultimi vent'anni, consideriamo l'unico elemento istituzionale che abbia una certa valenza, pur essendo un canale ancora abbastanza eterogeneo, è quello del sito web istituzionale. E qui mi sono permesso di far scaturire subito una domanda, ma è una vetrina o è un servizio? Dopo quasi, correggetemi se sbaglio, ma quasi 25 anni dalla legge 150, è considerato un servizio il web istituzionale o è ancora l'autoreferenza della pubblica amministrazione? Guardando in giro, ovviamente se ne vedono di cotto e di crude, c'è ancora chi considera il sito istituzionale una vetrina politica, c'è chi lo considera ancora un elemento di informazione prettamente amministrativa senza nessuna empatia e capacità di dialogo e quindi fondamentalmente si basa su quelli che sono i contenuti minimi obbligatori, abbastanza assettico sotto certi aspetti, però qualcosa che più ovviamente dobbiamo curare anche come adeguimento, cioè pubblicità reale, piuttosto che la partita IVA, la PEC, come è descritto in questa slide, sono cose che siamo obbligati a mettere nel sito web istituzionale, però nel 2020 ci sono tutta una serie di componenti sul sito web istituzionale che quando noi lo utilizziamo, cioè quando noi come utenti navigliamo sui siti web della pubblica amministrazione, vorremmo quasi che il sito web fosse costruito a nostra misura per trovare facilmente le informazioni, ma anche per stabilire delle relazioni, quindi non deve essere fondamentalmente solo un sito di servizio, ma deve essere un sito di comunicazione, ed è appunto importante che il sito web e poi anche tutti quei canali che vi ho descritto prima, che sono molto informali, appartengano comunque a un alveo che sia riconoscibile, si parla di brand identity quando si dice attenzione a partire dal logo, dallo slogan, ma anche dalla modalità con la quale si parla, si riesca a capire che si ha a che fare con un'organizzazione, quando noi giriamo sul web e cerchiamo delle informazioni relative magari proprio a un ente, un'amministrazione, un'azienda dello Stato, a volte ci troviamo anche su dei siti che sembrano dei siti pubblici, ma non sono altro che degli aggregatori, i quali saccheggiano le nostre informazioni e le ricompongono magari con un'ottica anche di profitto, è molto importante saper riconoscere quindi se si tratta del sito istituzionale ufficiale, questo lo si vede dall'indirizzo di dominio ovviamente, ma anche dalla brand identity, quindi da vedere se il logo è quello ufficiale, le informazioni vengono comunicate con i servizi minimi essenziali e poi con quella capacità anche a livello, chiamiamolo di slogan comunicativo, che sia facilmente riconoscibile, ma poi tutto quello che produciamo, ma anche quello che fruiamo, ci deve far capire che solo l'immagine coordinata ci permette di definire effettivamente quella che è l'identità di un ente, di che un ente diventa un brand e all'interno di quel brand tutti gli utenti si devono riconoscere. È molto importante poi capire che l'immagine coordinata rappresenta di fatto il messaggio e quindi come parliamo nelle email, dovremmo parlare anche nel sito istituzionale e dovremmo parlare anche sui canali social ed è la stessa cosa che facciamo anche da utenti, perché da utenti se ci pensate tante volte noi ci rivolgiamo alla pubblica amministrazione in maniera molto più semplicistica rispetto a quella un po' barocca che utilizziamo quando invece rispondiamo, ma bisogna trovare un po' il giusto mix in tutto questo. Quindi come dicevo bisogna stare attenti perché noi non ci pensiamo troppo spesso, ma secondo me è un grandissimo esercizio che dovremmo fare, specialmente quando consultiamo gli altri siti web pubblici, dobbiamo capire che siamo al tempo stesso cittadini, utenti e fornitori di servizi e di comunicazione, dobbiamo stare attenti che non ci sia troppa autoreferenza e soprattutto dobbiamo capire o far capire a chi ci dà dei servizi, chi siamo anche in base ai nostri ruoli, non può esserci un sito web istituzionale generalista, deve saper ovviamente, qui come vedete il livello è giustamente quello avanzato perché si deve occupare anche di progettazione di un sito, deve mettere l'operatore al centro e creare dei percorsi a seconda che esso sia un cittadino semplice, sia un creditore piuttosto che un'altra amministrazione, quindi il sito web è di fatto un progetto e va gestito come fosse un vero e proprio progetto. All'interno di questo progetto ovviamente dobbiamo fare in modo che sia l'utente che la pubblica amministrazione abbiano entrambi dei vantaggi, quindi la logica win-win ci deve portare anche poi a creare dei siti e ad usare dei siti che sono quelli sui quali ci troviamo bene anche noi come utenti, dove ci sia una grande capacità di ascolto ma soprattutto ci sia una grande capacità di reazione in base a quello che di solito istanziamo, che proponiamo ma anche che verifichiamo che dall'altra parte ci sia un qualcuno che riconosce i nostri bisogni e poi rispetto ai nostri bisogni magari anche cambi le cose in corso d'opera, le migliori eccetera eccetera, quindi questi sono gli elementi di base per un percorso avanzato sulle competenze digitali a livello di comunicazione di sito web per chi deve ovviamente pensare magari a rinfrescarlo, a renderlo il più possibile centrato sul bisogno del cittadino. È una specie di organismo vivente che cambia e come vedete cambia tantissimo con l'evolversi delle tecnologie e soprattutto delle metodologie. Ovviamente non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo anche una serie di utenti che non sono così fortunati da poter truire del sito web come lo truisce il normo dotato per cui il tema dell'accessibilità è molto importante e ce ne rendiamo conto spesso quando visitiamo anche dei siti che pur essendo normo dotati magari sono incomprensibili da un punto di vista di immagine, di suoni piuttosto che di font, piuttosto che di altri elementi che li rendono poco accessibili a noi, figuratevi a uno che magari deve utilizzare una tecnologia assistiva per poter truire delle informazioni. Per quanto riguarda il livello intermedio che è quello con il quale di solito ci si approccia appunto agli altri strumenti, ricordiamoci una cosa molto importante, che quando comunichiamo su canali che non sono canali gestiti dalla pubblica amministrazione, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dove volete, noi di fatto non siamo a casa nostra, per cui siamo soggetti a delle regole che ha scritto qualcun altro. È chiaro che il tipo di linguaggio, il contenuto di quello che portiamo è qualcosa che si origina all'interno della pubblica amministrazione, però non riusciamo a governarne gli effetti. Quindi anche lì tutta una serie di elementi che sono importantissimi, ovvio sono importanti per chi gestisce questi canali, per cui chi magari si approccia anche a gestire i contenuti deve pensare al linguaggio, al tono, alla frequenza, all'empatia, alla leggerenza, della dinamicità, ma noi stessi quando ad esempio andiamo, che ne so, su una pagina Facebook in comune e semplicemente clicchiamo su messaggio e gli scriviamo a che punto è la mia pratica e dopo dieci minuti questo non ci risponde, ci arrabbiamo, magari forse dovremmo fare un passaggio a vedere se è stata pubblicata la social media policy e quindi vedere quali sono le regole che all'interno anche di un canale non gestito, non governato dalla pubblica amministrazione, però mette chi lo sta gestendo nella condizione di dire ad esempio ti posso rispondere a queste istanze dalle ore alle ore o ti posso reindirizzare che ne so all'URP piuttosto che a un altro ufficio dell'amministrazione, quindi non sono luoghi noti, sono delle vere e proprie ambasciate, non sappiamo neanche se dureranno nel tempo, non sappiamo neanche quando cambieranno, quindi dobbiamo stare molto attenti perché poi lì c'è un grosso problema all'interno di questi canali, basta fare un piccolo errore e la reputazione è veramente compromessa per sempre, come sapete internet ha una memoria incredibile quindi anche attaccare una pubblica amministrazione senza avere magari la consapevolezza di quello che è il servizio, della sua complessità nell'offerta eccetera eccetera o addirittura mettendosi dall'altra parte a bastonare un utente che magari ci ha fatto delle richieste sbagliate è compromettente perché basta che uno faccia una fotografia dello schermo e ce lo manda in giro per gli altri canali e ci troviamo a dover ribonificare quella reputazione persa, non è una cosa assolutamente semplice, quindi bisogna agire con molta ma molta accortezza e poi c'è un elemento fondamentale sia nel gestirli che nel usufruirne di questi canali mica tutto ci deve stare dentro quello che facciamo pubblicamente, cioè la pubblica amministrazione non è finita per forza a mettere dentro quei perimetri i contenuti e i servizi che eroga, quindi va fatta una pianificazione anche da questo punto di vista. Ok, vediamo ora molto velocemente ciò che invece potrebbe essere e già è per alcuni enti un elemento molto più strutturato e sotto certi aspetti più complesso ma che può dare anche dei risultati assolutamente importanti per quanto riguarda la revisione delle proprie azioni. Sto parlando del CRM, il CRM è di fatto un moloch, è un qualcosa di obusto che bisogna o comprare attraverso delle gare, attraverso delle convenzioni o perché no chiedere al reparto IT di mettere in funzione per la nostra amministrazione ed è uno strumento con il quale si vanno a gestire le relazioni ma soprattutto oltre che a gestirle si vanno poi a monitorare perché il CRM offre dei dati sostanzialmente ci dà oltre che gestire le istanze, quindi tutti i processi relativi alle istanze ci permette di avere una serie di dati importanti per poter correggere le nostre politiche e questa è una cosa che è assolutamente importante, non tutti gli enti lo fanno ovviamente ci sono enti più strutturati, più grossi ma anche finanziariamente più dettati che possono agire in questo senso ed è un'operazione che poi anche da un punto di vista di utente e se noi sentiamo nei confronti, faccio un esempio dell'INPS che ha un CRM molto importante con la richiesta, riceviamo immediatamente la notifica del numero di ticket dell'ora nella quale è stato aperto spesso e volentieri ci viene anche scritto entro quanto avremmo la risposta e possiamo mantenere traccia sia noi come utenti ma soprattutto alla parte cosiddetta di back office dell'amministrazione di queste istanze, di queste proposte, di questi elementi di assistenza perché è molto importante ad esempio leggere i dati che un CRM offre per poter poi analizzare quello che bisogna cambiare ma bisogna farlo reagendo anche molto velocemente perché un miglioramento è quello che gli utenti si attendono se io ti do tanti feedback ovviamente tu in base ai vari comportamenti, in base a varie istanze probabilmente dovresti cambiare il tuo modo di offrire i servizi un altro elemento molto importante e che credo piace a tutti quando già lo troviamo esposto è il tema relativo alle PAC, le PAC non sono altro che una conseguenza al buon uso di un CRM cioè se ci sono domande molto simili, ripetitive, relative a un servizio piuttosto alla relazione di un contributo, metteteci voi un po' quello che volete è meglio già predisporre tutta una serie, chiamiamoli, di manifesti che contengono già le risposte principali a queste istanze in modo da non caricare troppo ad esempio il call center di assistenza nel dover puntualmente seguire una in tutte le istanze vado molto velocemente, qui ho messo alcuni assunti relativi appunto all'impatto che può avere il CRM anche nel ridisegno di un sito istituzionale se i cittadini girano, girano, navigano, trovano le cose probabilmente è grazie a questa loro indicazione che noi possiamo migliorarci molto velocemente parliamo ora di amministrazione aperta che è sempre un elemento che riguarda la comunicazione perché è basato sulla capacità dell'amministrazione di comunicare e di coinvolgere ovviamente quali sono i pilastri molto velocemente di trover pochi minuti dell'amministrazione aperta sono quelli descritti nella slide quindi l'essere trasparente quindi l'amministrazione deve poter mettere sempre a disposizione le informazioni che possiede e i dati, come per esempio i dati aperti deve permettere la collaborazione soprattutto degli stakeholder includerli nei processi collaborativi avviare una serie di consultazioni, di battiti, ideali quindi tutto ciò che è possibile chiedere anche in porta a chi è interessato ai nostri servizi come contributo possiamo fare e ovviamente dobbiamo rendere conto di quello che facciamo e ci piace molto anche con noi pensi poter analizzare qual è l'operato di qualsiasi ente pubblico ci opera dei servizi vi metto un po' di link relativi ai sistemi di partecipazione ce ne sono tantissimi puoi partire ovviamente da quello che anche prima è stato sviluppato dalla dottoressa Bellotti che è la consultazione che è stata fatta dal format proprio sul syllabus ma ce ne sono tantissimi c'è addirittura un sito come vedete che aggrega tutte le consultazioni pubbliche ed è gestita a livello centrale poi ci sono ovviamente anche delle piattaforme di partecipazione molto più settoriali per esempio è citata una relativa allo speed gestita da Agib ma ce ne sono anche locali ci possono essere dei comuni che predispongono una piattaforma partecipativa per poter coinvolgere cittadini e piccoli io ho lasciato anche alcune di quelle che sono le piattaforme più conosciute di partecipazione e direi ovviamente come prima da quella relativa all'open government l'open government è una materia e soprattutto un paradigma ancora poco conosciuto nei paesi del Mediterraneo si è sviluppato molto di più all'inizio nei paesi anglosassoni e poi nei paesi nodici ma è un paradigma che se ben interpretato dalle amministrazioni pubbliche crea molta empatia con i cittadini e con gli stakeholder per ultimo ci sono anche le piattaforme di monitoraggio perché poi come abbiamo detto dobbiamo permettere a chiunque di poter osservare e valutare quello che facciamo e vi consiglio di guardare anche piattaforme di monitoraggio civico fatte quindi direttamente da cittadini non gestite dalla pubblica amministrazione ma molto carina anche la piattaforma di Moniton che è gestita dall'agenzia della coesione ed è a valere sui fondi strutturali che va a fare un monitoraggio che vada ben oltre quello che è il compito dell'erogazione dei finanziamenti e quindi la capacità ad esempio dei piani operativi di creare ottime soluzioni per i nostri territori grazie ai fondi strutturali che cosa fa Moniton? va a vedere se effettivamente le realizzazioni corrispondono a quelli che sono i bisogni sociali quindi chiede alla cittadinanza o ai portatori di interesse se quegli interventi fondamentalmente hanno cambiato la vita ai cittadini sono elementi sui quali dobbiamo imparare sempre di più a confrontarci molto velocemente sui livelli di patronanza poi chiudo è chiaro che a seconda dell'esito del nostro assessment con tutti questi elementi di comunicazione molto informale e disintermediata non abbiamo tutti lo stesso livello di patronanza permettetemi di dire che a livello base sicuramente la forza elettronica ormai è passato come uno di quei sistemi sui quali tutti dovremmo avere un appadonante di patrono strumentale ma soprattutto anche di linguaggio quindi qui si richiede la capacità di fare un passo indietro rispetto al linguaggio burocratese e di porsi nei confronti del cittadino in una modalità molto più soft molto più empatica e molto più leggera certo se cominciamo ad avere una certa esperienza su questo tipo di comunicazione è ben consigliato utilizzare anche strumenti come il CRM se poi ci occupiamo di progettare qualcosa all'interno della nostra amministrazione ricordiamoci che il livello avanzato prevede il coinvolgimento di tutti gli attori possibili del territorio vi ho lasciato un po' di bibliografia c'è anche un po' di autoreferenza perché assieme ad alcuni colleghi su questi temi abbiamo anche scritto dei libri potete darci un'occhiata un va de me che consiglio a tutti che abbiamo scritto proprio con il format dieci anni fa è ancora molto molto valido un po' di sitografia ti ringrazio e mi scuso per essere stato lungo grazie perfetto grazie mille Gigi Kogo anche per essere comunque riuscito a stare in qualche modo nei tempi adesso do la parola a Andrea Chiodi che vedo già in video con Andrea vediamo invece la parte più legata appunto ai diritti di cittadinanza ai nuovi strumenti telematici digitali prego Andrea buongiorno a tutti grazie per questa opportunità la parte che mi è stata assegnata e che mi è più congeniale ovviamente si concentra su aspetti se vogliamo più tradizionali o meglio definiti dal quadro regolatorio vigente in relazione agli strumenti di comunicazione della pubblica amministrazione con i cittadini, le imprese ed altre amministrazioni partendo appunto da questo strumento ormai consolidato direi ma che quotidianamente ancora manifesta l'interesse della legislazione come quello della posta elettronica certificata l'introduzione del domicilio digitale e la particolarità dello scambio di informazioni, dichiarazioni e come vedremo la gestione integrale di procedimenti amministrativi tramite piattaforme la posta elettronica certificata la posta elettronica certificata ha costituito senz'altro a partire dal 2006 una rivoluzione nella pubblica amministrazione lo strumento principale perché immediato, poco oneroso e avente validità giuridica riconosciuta di scambio di informazioni obbligatorio per le amministrazioni man mano è steso anche ad altri soggetti ad oggi non c'è evidentemente l'obbligo di PEC per il singolo cittadino bensì per i soggetti iscritti nel registro delle imprese i professionisti è previsto questo obbligo interroghiamoci sulle caratteristiche tecniche e tecnologiche se vogliamo ma più che altro su una validità giuridica la sostituzione della tradizionale raccomandata tramite l'attestazione di un soggetto terzo vigilato da una certification authority questo è essenzialmente lo schema della posta elettronica certificata il domicilio digitale invece è qualcosa di più va più avanti che si innerva anche in indicazioni che provengono dal quadro regolatorio dell'Unione Europea non è più soltanto strumento o veicolo ma come vediamo in questa definizione è un luogo virtuale mediante il quale si possono scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore legale quindi ad essere certificato, attestato diremmo in linguaggio giuridico opponibile non è lo strumento ma è il luogo, la sede dove quella comunicazione si rivolge scambio di informazioni qui è opportuno fare una premessa di natura metodologica che esula probabilmente da una dimensione strettamente tecnologica ma che ci riguarda quotidianamente come operatori dell'amministrazione ed in particolare come responsabili del procedimento abbiamo due norme specifiche oltre a una generale evoluzione di indicazione normativa e giurisprudenziale che va in questo verso circa il divieto di aggravamento procedimentale una norma è chiara prevista nell'articolo 1 della legge 241 il divieto di richiedere nuovamente informazioni e dichiarazioni già conosciute eccetera eccetera le previsioni del dpr 445 sulle modalità di certificazione attestazione ed informazione da parte dei privati e delle imprese e la tipizzazione direi a partire dall'articolo 6 della legge 241 degli strumenti di cognizione del responsabile del procedimento questi vanno coordinati essenzialmente con l'articolo 3 bis della legge 241 che richiama l'uso della telematica utilizzava loro ovviamente questo termine come fondamentale per l'andamento della gestione dei procedimenti amministrati quali sono le caratteristiche di una posta elettronica certificata per lo scambio qualificato di informazioni tra amministrazioni, imprese e cittadini il fatto che la posta elettronica certificata ci dia garanzie sulla integrità la tempestività e soprattutto il non ripudio in che senso? integrità come possibilità di garantire la completezza delle informazioni tempestività perché abbiamo cognizione immediata della consegna tramite la famosa accettazione di consegna nel server di posta elettronica del destinatario e non ripudio cioè la impossibilità da parte del soggetto che si sia avvalso dello strumento di disconoscere questi concetti a un livello intermedio il funzionario pubblico non può non dominarli o quantomeno non esserne consapevole nella gestione del proprio lavoro devono essere intrecciati con l'obbligo di protocollazione informatica ormai risalente nel tempo e con il ricorso alla firma digitale perché ritengo opportuno tenere insieme questi istituti giuridici veri e propri perché disseminare un'amministrazione di caselle di posta elettronica sparse intestate magari alle singole articolazioni dell'ufficio rischia di compromettere quella esigenza di tempestività e completezza della comunicazione che invece sono il presupposto della casella di posta elettronica allora è opportuno che le caselle di posta elettronica certificata siano collegate al protocollo informatico e nel caso in cui si tratti di documenti che esiggano in base alla legislazione vigente della firma digitale che i tre strumenti costituiscano un unicum per una comunicazione qualificata da parte dell'amministrazione il passaggio ulteriore sarà a questo ci si arriverà ovviamente con il tempo soprattutto il tempo tecnologico con il passaggio al domicilio digitale che come vi dicevo si libera di quella dimensione è una dimensione strettamente comunicativa di veicolo di informazioni e passa a quella più evoluta di luogo virtuale di scambio delle informazioni dove ad essere certificato è appunto il luogo virtuale necessita evidentemente del completamento di una innovazione importante su larghissima scala che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente perché evidentemente il domicilio digitale del soggetto non può che essere connesso alla dimensione anagrafica un soggetto che abbia un domicilio digitale deve in qualche modo avere un domicilio anagrafico che del domicilio digitale è lo specchio il codice dell'amministrazione digitale stabilisce appunto che al passaggio completo dell'intera nazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato saranno appunto integrati rispetto a quelli già disponibili dell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti il famoso indice INIPEC che ovviamente utilizziamo già quotidianamente nella ricerca dell'indirizzo PEC di professionisti o imprese con le quali nella nostra attività abbiamo a che fare questi ultimi professionisti e imprese già a questo momento hanno l'obbligo giuridico di censirsi tramite una PEC accanto al censimento già compiuto delle pubbliche amministrazioni tramite l'indice IPA quindi una serie di indici di rubriche direi che vanno via via completandosi a vantaggio di questo domicilio digitale scambio di informazioni già ad oggi facciamo ampio ricorso a piattaforme che ci consentano di acquisire diciamo senza una interlocuzione ma con una richiesta di accesso a dato già esistente con altre pubbliche amministrazioni le più semplici la regolarità contributiva la regolarità tributaria la regolarità antimafia quindi una possibilità di accesso da parte delle amministrazioni a dati disponibili per altre amministrazioni come vi premettevo concetti quelli della PEC dello scambio di informazioni che sembrano apparentemente essersi consolidati ormai nella nostra pratica amministrativa quotidiana ma che invece nel corso del tempo vanno evolvendosi indubbiamente e che richiedono soprattutto ad un livello avanzato di gestione delle nostre amministrazioni da parte dei funzionari di livello più elevato quanto la conoscenza e un minimo di consapevolezza e vi faccio un vi porto un esempio la possibilità riconosciuta da pochi che va via via estendendosi devo dire incentivata nell'ultimo periodo anche dalla impossibilità di fruire dei tradizionali strumenti della gestione del contenzioso della notificazione degli atti giudiziari riceviamo quotidianamente PEC però taluna di queste reca nell'oggetto una vicitura precisa notificazione esensi della legge 53 del 94 vedete questa non è più una comunicazione qualificata e integra o meglio non è solo questo ma sostituito integralmente la notificazione tramite l'ufficiale giudiziale è assai delicato pensiamo al faccio un esempio sciocco la notifica all'amministrazione di una dichiarazione di un procedimento esecutivo che comporti nel caso di mancato riscontro determinati obblighi di messa a disposizione di risorse bene il funzionario deve essere consapevole che quella notificazione si è completata perché eseguita nei confronti dell'amministrazione sulla base dell'elenco ufficiale delle amministrazioni ad esempio il regginde per il processo per il processo civile e che si è perfettamente completata tramite esclusivamente strumentazione digitale da parte dell'avvocato piattaforme piattaforme di consultazione come quelle che ho appena illustrato la regolarità contributiva la regolarità tributaria la regolarità antimafia ma piattaforme che vanno oltre l'aspetto eminentemente consultativo ma piattaforme che costituiscono lo strumento obbligatorio ormai di gestione del procedimento e vi porto due esempi citava ovviamente la dottoressa all'inizio la collaborazione di Union Camera la prima piattaforma è gestita proprio da Union Camera e dalle Camere di Commercio la piattaforma di imprese in un gioco che consente la gestione informatizzata dei procedimenti delle attività di produzione di beni e servizi incluse le attività agricole commerciali artigianali turistiche e alberghiere i servizi resi dalle banche cioè tutte quelle attività che il legislatore nel 2010 ha centrato nella figura organizzatoria del suo UAP ora transitano tramite questa piattaforma e questo unito all'evolversi del ricorso ormai massiccio alle segnalazioni certificate di attività significa che la ricevuta automatica rilasciata dalla piattaforma all'operatore che abbia depositato la scia gli consente di eseguire quella determinata attività in mancanza di un nostro riscontro sempre tramite piattaforme infine le piattaforme di gara che vanno via via prendendo piede non soltanto quella di acquisti in rete consi per ministero dell'economia e delle finanze ma anche di soggetti privati vigilati però dall'autorità nazionale anticorruzione ebbene ai sensi dell'articolo 40 del codice dei contratti che recepisce sul punto una specifica indicazione della direttiva comunitaria con decorrenza dal 18 ottobre 2018 tutte le procedure concorrenziali di acquisizione di lavori beni e servizi devono essere gestite tramite comunicazione elettronica comunicazione elettronica che non può essere assimilata o appiattita sulla PEC perché la PEC non garantisce il contestuale di svelamento delle offerte ricordiamo le nostre care vecchie gare d'appalto cartacee le buste vanno aperte insieme caratteristica della piattaforma di gara è la certezza della comunicazione e la certezza e tracciabilità dei passaggi primo fra tutti l'apertura contestuale delle offerte di questo un funzionario amministrativo un funzionario di una pubblica amministrazione oggi non può quantomeno essere a conoscenza e consapevole i riferimenti normativi essenziali sembrano risalenti nel tempo ma trovano grazie a una normativa tecnica che viene costantemente aggiornata pensiamo alle linee guida dell'agit alle direttive del dipartimento della funzione pubblica che trovano come dire spesso la via di sfogo verso un aggiornamento nella nostra pratica il dpr 445 il codice dell'amministrazione digitale il regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata ma anche la legge 53 del 94 sulle notificazioni che è stata estesa l'articolo 3b le notificazioni tramite posta elettronica certificata di cui vi parlavo il codice dei contratti pubblici articoli 40 e seguenti sull'obbligo di gara telematica anche io vi ho messo a disposizione dei link alle istituzioni che più direttamente si occupano delle tematiche che brevemente vi ho illustrato l'autorità nazionale anticorruzione il ministro per la pubblica amministrazione l'agenzia per l'italia digitale dove in apposita sezione sono indicate raccolte tutte le linee guida che si occupano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi ma anche il sito del ministero dello sviluppo economico nella sezione imprese in un giorno la rivoluzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente sul sito del ministero dell'interno e poi la tradizionale piattaforma di contip acquisti in rete pa. punto punto is piattaforme che dobbiamo necessariamente imparare a conoscere e a dominare perché un'amministrazione moderna oltre che indipendentemente avrebbe da dire il dato normativo è chiaro quindi non si può non si può sfuggire ma un'acquisita consapevolezza di questi strumenti nel medio periodo non c'è dubbio che agevoli e il nostro lavoro quotidiano il lavoro dell'amministrazione e renda quanto più possibile trasparente e certo l'esito procedimentale che la legge 241 del 90 pone quotidianamente nelle nostre mani una carrellata ampia celere su vari su vari livelli e tematiche che mi auguro possa aver destato il vostro interesse anche per le attività a seguire vi ringrazio perfetto grazie molto allora anche Andrea sono arrivate devo dire parecchie domande ho avuto un'interruzione sì ora spero che mi sentiate chiaramente sono arrivate diverse domande allora se i colleghi dalla regia rendono disponibile il box io avrei le domande da far da far leggere ai nostri relatori di oggi perfetto grazie allora quindi le domande allora ad esempio ecco qua Gigi Kogo puoi attivare Gigi puoi attivare il tuo video così ti vediamo ci sono alcune domande per te ho selezionato quelle che mi sembravano le principali le vedi qua nel box nelle domande sì 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 grazie Roberta allora CRM può essere usato anche per comunicazioni di emergenza beh sulle comunicazioni di emergenza direi beh sì se il CRM ha una diffusione massiva quindi coinvolge tutti i cittadini quindi è riuscito a profilare quasi tutti i cittadini mi permetto di citare la mia città ad esempio noi a Venezia abbiamo un sistema che si chiama Dime nel quale praticamente quasi tutti i cittadini hanno un loro profilo e viceversa consiglierei anche qui pur essendo un territorio non governato magari di utilizzare sistemi che possono essere o la protezione civile che ha ovviamente tutti i numeri e può mandare eventualmente un WhatsApp piuttosto che un SMS o addirittura ai canali social ci sono bellissime esperienze ad esempio in ambito di emergenza penso all'alluvione di Genova su Twitter e quindi diciamo sì però dipende dal grado di adesione al CRM dei cittadini la PA che ha un sito istituzionale può essere obbligata ad avere un CRM beh il CRM non è di fatto un obbligo è un grande consiglio poi attenzione secondo me va definito un concetto di questo tipo esiste la piattaforma CRM che è un Moloch sistemistico informatico e gestionale omnicomprensivo ma un CRM può essere fatto anche di pezzi cioè nel senso pian piano che erogo dei servizi inserisco alcuni elementi di dialogo e di confronto con i cittadini per le loro istanze per le FAQ per indirizzarli verso un'assistenza che può essere di un back office di un URPE eccetera eccetera e quindi può essere anche fatto in maniera più leggera non è un obbligo di fatto non esiste un obbligo normativo per il CRM perfetto grazie Gigi ci sono alcune domande per Andrea aspetto a vederti in video perfetto Andrea magari seleziona tu quelle che ritieni le principali prego allora la PEC è destinata a sostituire gradualmente la posta elettronica tradizionale direi di no perché diverse sono le finalità quando diciamo la PEC garantisce la certezza del contenuto la certezza della ricezione torniamo un po' indietro nel tempo non tutte le comunicazioni nelle nostre pubbliche amministrazioni erano fatte con raccomandata R o men che meno tramite la notifica tramite il messo l'ufficiale giudiziario quindi continueranno evidentemente ad esistere i due i due canali ovviamente concordo con quanto ha detto il collega prima di me l'utilizzo di una mail non PEC non significa che il contenuto del messaggio sia meno istituzionale producibile e utilizzabile in contenzioso e quant'altro a maggior ragione quando parliamo di una cosiddetta posta elettronica semplice corporate facilmente assegnabile individuabile in capo all'amministrazione la seconda domanda è l'Unione Europea la PEC oppure la semplice mail a valore di PEC qui diciamo ci sarebbe da fare una battuta la PEC è fondamentale in Italia perché solo in Italia disconosceremmo di aver ricevuto un messaggio che se a parte vi sono realtà a livello europeo che non contemplano il ricorso alla posta elettronica certificata ma che trovano una cornice normativa nel regolamento comunitario 910 del luglio del 2014 facilmente accessibile e che detta le garantie tramite una certificazione EIDAS sulla certezza e sicurezza della comunicazione tra soggetti di diversi stati dell'unione europea rispondo poi all'ultima perché è veramente facilissimo l'indice INIPEC è semplicissimo basta cercarlo su google indice INIPEC ha le due sezioni per la ricerca per professionisti con delle griglie abbastanza intuitive e la ricerca per imprese ricordo però una particolarità per quanto riguarda la ricerca per le imprese l'obbligo per le imprese di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese quindi con una pubblicità legale assolutamente fondamentale nel caso in cui la PEC disponibile sull'indice INIPEC non coincida con quella che riusciamo a individuare tramite una visura camerale prevale quella della visura camerale per quanto riguarda i professionisti vi sono altre modalità sollecitatorie a procurarsi una email faccio un esempio per gli avvocati non inserire la PEC già messa a disposizione dal consiglio dell'ordine negli atti giudiziari fa sì che ci sia una sanzione ad esempio nel raddoppio del contributo unificato per l'instaurazione di un procedimento giudiziario ecco una sanzione evidentemente economica con natura fortemente sollecitatoria perfetto grazie molte anche ad Andrea Chiodi come dicevo all'inizio questi seminari chiaramente non potranno non possono essere esaustivi quindi l'obiettivo è quello di iniziare a fornire come dire alcuni spunti e farvi venire anche un po' di curiosità su quello che poi renderemo disponibile per tutto il resto quindi ci sarà la vera e propria attività formativa possiamo quindi chiudere il seminario di oggi io vi ricordo l'appuntamento è per martedì prossimo quindi il 16 giugno sempre alle 12 con il seminario dell'area dell'area 1 informazioni la registrazione del webinar e le slide degli esperti saranno disponibili tra brevissimo nella scheda di eventi vi ricordo di partecipare comunque ai nostri webinar anche se magari ritenete che l'argomento non sia proprio tra i vostri preferiti o tra quelli che vi serve approfondire perché comunque questi seminari come avete visto sono anche l'occasione per fornire ulteriori informazioni sul sistema del syllabus sull'assessment su come si partecipa vi ricordo anche che stiamo integrando attraverso le domande che ci ponete nei seminari online sul sistema del syllabus noi integriamo proprio le fac che sono disponibili sul sito competenzedigitali.gov e quindi vi potete anche consultare le fac e nel caso eventualmente potete consultare anche il servizio di helpdesk disponibile sempre sul sito con questo vi ringrazio per la partecipazione ringrazio i relatori di oggi e vi do appuntamento a martedì prossimo arrivederci a tutti a tutti per la partecipazione di oggi peggio di oggi per la partecipazione la partecipazione di oggi e il